Noi siamo in un momento in cui stiamo facendo una cosa grande, nel bene e nel male, con tutti i nostri limiti, se ne sta sbagliando tante, se ne sta facendo qualcuna ingiusta secondo me in più di quelle che si sbaglia, ma può darsi che ci siano opinioni diverse, però finalmente abbiamo tolto di dosso a questo Paese un po' di polvere. Lo possiamo fare perché ci riconosciamo parte di una storia comunale.